Siamo appena arrivati a Sidman, questa qua è la villa in cui staremo per un po' di giorni, adesso vi mostro un po' tutto. Abbiamo preso una villa privata perché dobbiamo registrare delle lezioni e dei contenuti per i nostri percorsi per aspiranti e nomadi digitali e dobbiamo fare delle foto, quindi avevamo necessità di un ambiente che fosse calmo e che fosse soprattutto bello e che fosse anche una scusa per noi per goderci un posto in una maniera un po' più privata e rilassata visto che di solito comunque andiamo in sistemazione, comunque in condivisione o dove la piscina è sempre in condivisione e poi volevamo goderci un panorama del genere, siamo praticamente tra le risaie, questo qua non è il periodo in cui cresce il riso da quello che abbiamo capito perché nelle risaie sei mesi l'anno c'è il riso, altri sei mesi l'anno queste terrazze diciamo sono utilizzate per il chili e le arachidi adesso vi mostro un po' la casa, quella lì è la golf cart con cui ci hanno accompagnati, questa qua è la porta d'ingresso principale questa qui è la piscina, questa è tutta la villetta che abbiamo, lì c'è Daniela che sta lavorando credo dal telefono qui c'è la postazione da cui lavoreremo con molta probabilità in questi giorni cucina, mini frigo, un bollitore con le varie cose per farci il caffè, posate e piatti questa qui è appunto la stanza, il sanatore, questa cosa molto molto comoda un'altra scrivania da cui lavoreremo, i nostri zaini, un armadietto nel caso in cui dovessimo avere necessità un altro po' già cose in generale, questa doccia è molto molto bella su queste pietre molto bello, sta mirarci su, faccio il piatto doccia così, i luci, quel doccino di bidet diciamo il lavandino un attimo che è un piano di pietre sotto i piedi e poi appunto finita però in generale abbiamo questa vista e la cosa bella è che ce l'abbiamo anche da letto visto che c'è una vetrata, è bellissimo, a ti piace questo alloggio? tanto, mi piace veramente tanto, sei stato molto bravo a trovarlo su Airbnb tra l'altro nemmaggia le costume perché adesso priorità, piscina ieri alla fine abbiamo lavorato e abbiamo dovuto risolvere il problema del wifi perché non ci prendeva però ci ha portato la saponetta, questa qua in realtà non è una saponetta però un ripetitore e oggi ci hanno portato la colazione perché la colazione è inclusa nel prezzo arriva così, scomposta, entrambi abbiamo proprio il pancake alla banana, infatti siamo positi di banana qui in mezzo abbiamo lavato i piatti che c'è questa, questa angolo cucina che vi facciamo vedere molto molto carino e adesso ci prepariamo la colazione lì e ci facciamo il caffè e Daniela il tè, credo vuoi te? abbiamo composto i piatti e sono molto più carini così praticamente avevamo questa busta di un liquido che sembrava essere scirocco d'acero comunque non siamo sicuri di cosa sia effettivamente però sì dovrebbe essere scirocco d'acero qui tra l'altro loro non hanno qualcosa per filtrare hanno questa polvere di caffè che noi useremmo per la moca fondamentalmente la mettono nel bicchiere, poi ci mettono l'acqua calda dentro penso che così vada bene, forse ne mettono un altro mezzo cucchiaino perché qui è proprio Bali, è tipico farlo così, il caffè balinese è fatto così quindi mettono l'acqua calda e lo mescolano così, poi lo lasciano riposare affinché la polvere del caffè stia in fondo sì lo so che naturalmente il caffè a cui siamo abituati non è così però appunto non siamo in Italia a fare il caffè come siamo abituati è un po' diverso, però in realtà non è male anche perché appunto è il caffè tipico di qua magari non si fa come l'ho fatto lì attualmente ma in generale quello è il modo in cui si fa e siamo qui appunto a vivere la cultura anche sulla base dei modi appunto con cui vivono i locals stiamo chiacchierando abbiamo visto questo gecko che è saltato da una parte all'altra è entrato nel nostro cestino e si ha preso un fazzolettino cioè non so se si riesca a vedere da qui lui ha afferrato con la bocca del fazzolettino da dentro il cestino che comunque è profondo adesso sta provando ad andarsela, non so che cosa abbia visto in quel fazzolettino di così entusiasmante in questa villa oltre che il ristorante c'è anche la spa i massaggi costano pochissimo tipo 17 euro per un'ora io ho scelto di fare l'aromatherapy infatti ora andrò per 60 minuti e mi rilasserò con questo massaggio questa vista è spettacolare allora mi ha dato questo da mettere questi sono i lettini questo è quello che utilizzerà per farmi il massaggio sono molto molto felice mentre Daniela è a farsi il massaggio che se lo è meritato perché appunto siamo sempre in full focus su tutto cerchiamo di goderci i posti in cui siamo ma difficilmente ci concediamo tutto questo relax io sto lavorando alle lezioni per i nostri studenti dei percorsi per diventare nomadi digitali stamattina pioveva ora il tempo è un po' migliorato non è soleggiato ma abbiamo visto non so se sia un caso questo periodo però in generale anche ad Ubud quindi andando sempre più verso il centro o al nord sembra che qui sia più... non dico uggioso perché non è così pesante il clima però in generale si non è soleggiato come a Kuta oppure a Nusa per esempio però comunque c'è caldo quindi io appena finisco vado direttamente in piscina perché appunto farò una pausa finisco questo task principale faccio un tuffo e poi mi rimetto a lavorare a dei video su Bali che usciranno appunto sul canale YouTube oddio c'è questa rana qui mi ha fatto spaventare che sembrava una foglia salterina può sembrare che mi stia fissando non capisco però non capisco perché abbia questo colore molto molto giallo dal nulla c'è quella rana lì che non sapevo arrampicassolo infatti mi sta mettendo un po' d'ansia anche perché ora sembra verde ma là fuori sembrava un colore diverso cioè da là sembrava gialla il sole la sembra verde si sta arrampicando in un modo strano lì invece qua c'era un serpente che è andato di là ma è piccolo guardate i ragazzi a guardare il serpente ma c'è quella rana che continuano a saltellare qui non stiamo esplorando per niente però siamo contenti perché dobbiamo portarci avanti col lavoro Daniela sta lavorando stamattina si è fatta un bagno in piscina prima di iniziare invece ho iniziato praticamente subito a lavorare e adesso sto facendo una pausa prima di rimettermi ad affarmi un bagno poi mi insistevo un attimo ad allavarmi c'è lo certo onore gigante è entrato sotto lì in mezzo e poi riprendo a lavorare prima di andare a pranzo poi la piscina non è altissima però comunque è già qualcosa ed è figo farsi i toffi così però è abbastanza bassa e qua è anche più bassa però è comodo quando vogliamo tipo sederci qui senza farci il bagno del tutto e chiacchierare poi è bella fresca tra l'altro stamattina il ragazzo che si occupa di pulire le piscine è venuto qua mentre stavamo lavorando io non c'avo questo caso perché appunto ero focalizzato al pc ha anche messo il cloro per pulificare tutto e ha tolto eventuali comunque insettini o comunque foglie che cadono da quassù naturalmente siamo in mezzo alla natura un po' di vento comunque qualche insetto finisce sempre in piscina però appunto se l'ha fatto il bagno Daniela stamattina aveva un attimo spinto via tutto però adesso è anche molto più pulita diciamo che anche il bello di avere la piscina in casa è che se anche non stiamo esplorando riusciamo a staccare senza, tra virgolette, perdere che poi non è mai il tempo perso troppo troppo tempo a cercare cose da fare a fissare uno scooter, andare in giro e comunque voler stare almeno una giornata fuori visto che ormai abbiamo fissato lo scooter dopo possiamo staccare una mezz'oretta e portarci avanti con il lavoro diciamo che noi comunque cerchiamo di bilanciare molto momenti in cui lavoriamo di più momenti in cui esploriamo di più e questi giorni sono giorni un po' un po' il focus di fuoco dove siamo abbastanza pieni di cose che vogliamo portare avanti e quindi ci siamo concessi questa villetta e questa tranquillità proprio per avere più energia avere più modo di staccare senza dover per forza uscire organizzare qualcosa io mi sono rimesso a lavorare e ho finalmente finito di editare il video su Nusa Penida che prima che uscirà questo naturalmente sarà già uscito quindi vi invito ad andarla a recuperare perché è stato un trekking stupendo e poi la spiaggia bellissima anche Daniella si è sfidata molto per riuscirci sì infatti era un trekking che io non volevo fare ho cercato in tutti i modi di convincere Anto non fatto ma non vogliamo esplorarvi troppo quindi andate a recuperare il video perché è stupendo e poi è bellissima l'ambientazione è tutto uno dei contro dell'essere nomadi digitali adesso mi sta venendo dal nulla non so perché un po' di febbre sento molti testi e dolori influenziali vari e sto praticamente tremando c'è Daniella che ha maniche corte sta sudando dice perché sta usando il forno per riscaldarmi io sono maniche lunghe sono sore coperte cioè sto praticamente tremando dal freddo e domani abbiamo il check out dobbiamo ancora fare gli zaini quindi abbiamo i zaini da fare il lavoro da portare avanti e domani entro le 11 dobbiamo lasciare questa casa trovare il grab ovvero appunto il modo per muoversi qua diciamo il servizio di taxi quindi tipo Uber in realtà cioè sia grab che gojek però per ora stiamo usando principalmente grab e poi arrivare ad Ahmed che è tipo un paio torri di strada in una macchina così che sicuramente sarà qualche volta che abbiamo trovato comode però l'ultimo viaggio era troppo dritto il sedile quindi sì sarà interessante però per fortuna siamo in due quindi questo qua non ho dei problemi infatti Daniella mi sta aiutando a prendere le cose che devo prendere l'ibubrofen credo mi sta aiutando a portare dentro le cose che io come ho aperto la porta ho avuto freddissimo non è stato a tremare questa qui è l'ultima clip che abbiamo registrato a Sidman perché quella che credevamo essere una semplice febbre si è rivelata essere l'intossicazione alimentare più fastidiosa che abbia mai preso ovvero la bali belli per fortuna siamo riusciti a risolvere però ho avuto questi 12 giorni abbastanza pesanti tra febbre a 39 stanchezza costante senso di vomito stomaco in subbuio e altri sintomi vari però ci faremo un video dedicato su questo canale in cui appunto vi andremo a dire cosa pensiamo che abbia scaturito questa infezione e come abbiamo risolto perciò se vi interessa il tema e avete domande sulla bali belli fatecele qui sotto nei commenti che le aggiungeremo nel video in futuro nel frattempo questo video finisce qua quindi se vi è piaciuto vi invitiamo a lasciare un mi piace per farci capire che questo tipo di video vi interessano e ad iscrivervi per supportare il canale perché per voi è solo un click ma per noi è importantissimo ci vediamo al prossimo video